Siete pronti a vedere il magazzino più incredibile del mondo ecco qua guardate che bello ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video qui è bella faccia e come state bentornati nella vanilla hardcore la vanilla più hardcore di hardcore che cavolo ho detto non lo so Ok allora nello scorso episodio avevamo costruito questo fantastico magazzino guardate è una cesta gigante ma quanto è bella ah comunque sia se non l'hai ancora fatto tu che stai guardando il video mi raccomando lascia un mi piace e iscriviti perché è super importante Allora avevamo costruito sì proprio così avevamo costruito questo magazzino a cesta bellissimo e guardate mamma mia ok ok lo devo finire però qui è come lo sto facendo Sì ovviamente qui è come lo sto facendo perché l'ho fatto e oggi niente non so parlare è inutile ragazzi allora qui ho intenzione di metterci tutti i blocchi ad esempio che ne so questo e qui ci saranno tutti i blocchi di pietrisco eccetera eccetera Ok ho messo veramente tantissime ceste come potete vedere ragazzi e l'ho dovuto fare a più piani quindi qua si salirà ok vado qui e apro la cesta ok ancora non so se tenere questa a disposizione Però mi piace in questo momento non lo so fatemelo sapere anche voi qua sotto in un commentino e per tornare giù ci sono gli slime boing boing ma qui non siamo oggi a saltellare non siamo qui per saltellare No perché oggi come avrete letto dal titolo almeno spero voglio cercare il warden ragazzi e ci devo riuscire perché mi avete dato un sacco di indizi su come trovarlo è super potente Infatti dovrò portarmi un bel po' di totem della non morte ok sono in hardcore e so che il warden leva quanto 20 cuori 15 non lo so però molti di più di quelli che ho qua Quindi sarà un'impresa e poi voglio collezionare tutti i blocchi nuovi perché come potete vedere ecco le foglie di azalea questo è un blocco nuovo Il basalto è un blocco nuovo l'ardese è un blocco nuovo il pietrisco c'è da quando c'erano gli antichi egizi le bacche sì blocco nuovo Questo foglie di azalea blocco nuovo quindi ci siamo capiti eh ok sta facendo notte facciamo spazio nell'ender chest e andiamo a cercare il warden ragazzi ma Hanno tolto il sacchetto si chiamava sacchetto non ce l'ho più ma non esiste più il sacchetto Dov'è eccolo sacchetto non lo trovavo più ok mettiamo giù tutte le cose si servirà anche un sacchetto Mettiamoci a dormire e questo è tutto l'equipazzamento ok guardate ho preso tutte queste cose Mettiamoci a dormire perché domani sarà un giorno incredibile sarà il giorno dove bella faccia potrebbe morire per sempre E perdere tutto il suo mondo ma non preoccupatevi vedremo il warden per la prima volta insieme buonanotte Ok buongiorno mettiamoci subito all'opera vogliamo con le nostre elitre ecco qua andiamo Ok devo andare in un posto ovviamente dove non sono andato e dovrò andare molto lontano perché io ho esplorato veramente tantissimo nel mio mondo eh Quindi muoviamoci andiamo più lontano che possiamo forza oh 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 calmi calmi mostrisattoli calmi stupidi mostri Sto solo cercando il warden non ho tempo per voi avete capito ok scendiamo negli abissi delle caverne perché sono sicuro di trovarlo Ovviamente scrivetemi sempre dei commentini perché io di questa 1.19 non è che ne sappia tantissimo eh Ok devo fare veramente molta attenzione uno squid luminescente io non so di preciso dove si trovi questo warden Mi avete detto che si trova sotto gli alberi che sta succedendo squid squid no squid vi salvo io dai pongo fine alle vostre sofferenze Datemi tutti i drop nuovi datemi dov'è eccolo questi drop nuovi che si aggiungeranno al magazzino di bella faccia Allora uh diamanti allora fatemi mettere l'armatura non si sa mai i diamanti sono sempre benazzetti eh Allora li prendiamo con tocco di velluto vai tutti i miei diamantini belli vedete qui sì diamantini belli diamantini belli Allora vediamo un pochettino questo oh zombie zombini zombini belli state calmi che cavolo è che cavolo è Che cavolo è toglietevi Che cavolo è Oh mio dio L'abbiamo trovato Allora io ragazzi Non ho mai visto il posto del warden Cioè non l'ho mai visto è la prima volta eh e non ho mai visto il warden ovviamente Che cavolo è Ragazzi siamo vicini Fammi tenere un totem va Che è sto coso Ragazzi Oh no 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 Che cavolo è stato Che cavolo era Se lo rompo che succede Avete sentito Che è stato Mio dio ho paurissima Ho paurissima ragazzi Il blocco Dammi col blocco No Ma che è il warden C'è una pianta Fammi togliere qualcosa Voglio quel blocco nuovo dai Preso Preso Lo sentite sento un verso Che è Mio dio brilla Skulk Abbiamo un blocco nuovo Fantastico Ok io sentivo dei versi comunque Oh mio dio Che cavolo è qualcosa Che cavolo Ragazzi Questo qui è il blocco Che cavolo Questo qui prende i miei passi Ok Warden Se sei qui Vengo in pace Questo blocco Ci sono un sacco Oh smettitela Cavolo Questo sensore Lo devo distruggere Posso distruggerlo Allora tocco di velluto Proviamo a prenderlo Con tocco di velluto Si L'ho preso L'ho preso L'ho preso Si Sensore di Di skulk Oh mio dio Questo sensore sicuramente Avverte il warden Che io sono nelle vicinanze Cioè non lo so eh Non lo so perché io Non ho idea Non ho idea di quello che sto vedendo Sono Oh mio dio Che è Ragazzi sono nel suo habitat Dovrebbe essere qua Ok cerco di prendere Tutte Le cose nuove Tutti i blocchi Allora vediamo Questo Con le cesoie Come cavolo si fa a prendere Con l'ascia Con l'ascia Con l'ascia Non ci credo Ok mettiamo tutto qua Vena di skulk Mettiamo tutto qua Ok Si ma con l'ascia Li prendo subito Ma allora col piccone Uguale Ah li posso prendere anche col piccone Non ci credo ragazzi Tutti i blocchi nuovi Grande finalmente li abbiamo trovati Piglia piglia tutto Bella faccia Non ho già più posto ragazzi Guarda tutto Ho portato troppi totem Ok metti tutto qua dentro Si Mettiamo tutto qua dentro Ok continua così Piglia tutti i blocchi Allora Non so se il warden Abiti qua Però ho veramente Tanta paura E che è sto coso Ho sentito un altro verso Perché il warden fa dei versi simili forse Ok sto coso con tocco di velluto Lo possiamo prendere Vediamo Che tipo di blocco è questo Vediamo che è Catalizzatore skulk Ok ci pigliamo tutto Perché questi sono blocchi rari Sono blocchi rarissimi ragazzi Sono veramente blocchi super rari Ok metti questo dentro Questo dentro Ste cose le possiamo buttare nella lava Grazie Allora Ho un sacco di blocchi nuovi Ma io voglio vedere il warden Almeno una volta Che è lì Lapis Sopra quel blocco nuovo Sono i lapis Sì Ok allora Fai molta attenzione Bella faccia Ragazzi è una paura incredibile Sembra ma sono spaventatissimo Warden Sei qui da qualche parte Ti puoi far vedere Ho paurissima Perché il warden Ti uccide in un colpo ragazzi È fortissimo C'è il warden È fortissimo Ok ci sono altri Rilevatori Cavolaccio avete visto Appena mi muovo Questi cosi Mandano delle onde radio Qualcosa Non so Alla testa del warden Basta Basta fare pubblicità Dei miei movimenti al warden E toglietevi di mezzo Sì Guardate quanti ne ho Quanti ne ho Tutti nella cesta Oh C'è un altro C'è un altro lì Prendiamolo Perché secondo me Questo è un blocco abbastanza raro Ho paurissima Mamma mia Sto tremando Mi sudano le mani Perché ragazzi Che Avete sentito? Ho sentito qualcosa Allora tengo un totem Ho sentito un verso Stranissimo Non lo so C'è Sembra un posto Corrotto Oh mio dio Sicuramente allo youtuber Misterioso piacerebbe Questo posto Ma dove cavolo Sono finito Non si vede nulla Ma che è sto coso? Oh 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 Che è? No Che cavolo è? No 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 Che è? Oscurità Mi prendici Ragazzi? Ragazzi? Che stracacchie Su senso Che cavolo Oh mio dio Mio dio Oh mio dio Ma si è riempito di mostri Ragazzi? Me la sto facendo sotto Me la sto facendo Che cavolo è sta Avete visto che cavolo è successo? Oscurità Oscurità Avete visto che roba? Oh mio dio Ma che razza di cosa è quella? Cos'è quella cosa? C'era oscurità Allora devo fare fuori i mostri Mio dio Warden Wardenuccio Wardenbell Non mi sembra di vederlo Allora facciamo fuori prima tutti i mostri Facciamo fuori prima tutti i mostri Chissà se riesco a minare quel coso Oh no No Non avvertire quel coso Basta pipistrello Non fatemi prendere paura eh Ok continuiamo a scavare Non avvertite quel warden Mamma mia che paura Basta Basta Non fatemi paura Non fa Ho sentito qualcosa Ho sentito un verso Ragazzi io sento versi a caso Ok proviamo Non so Proviamo a minare quel coso Proviamo a minarlo Dai Mino 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 No 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 Piano Mino Si Oddio 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 oscurità Oddio L'ho minato Ok Skulk Cos'è? Skulk Ur Urlatore Ok via oscurità Mamma mia Mamma delle mamme Ok l'ho preso E non dovrebbe più rompermi le scatole Via Stupidi mostri Ma perché non mi son portato una pozione? Ho paurissima che sia dietro Che? Sangue catalizzatore Eh? Ho sbloccato Un archivment Grande Grande Ottimo Che? Uccidi un mob vicino a un catalizzatore di Skulk Vabbè facile fin qui eh Ok ragazzi ho paura Io direi di prendere questi blocchi E di proseguire Perché mi sa che non è qui Oddio Avete visto che l'ho ucciso lì? Basta fare questi versi Mi fate prendere un sacco paura Ok me ne voglio andare via Io vi giuro che in hardcore Giocare così cercando Il warden ragazzi Si muore di paura Si muore di paura Teniamo anche lo scudo per sicurezza Mamma mia che paura sto coso che faceva poi eh Proseguiamo Andiamo avanti Ok ragazzi ci siamo Guardate dove sono Guardate Ha lagato Ok è pieno di quei cosi di prima Ok devo fare molta attenzione eh Allora togliamo subito dai piedi sti cosi Ho una paura incredibile Non so se si riesca a sentire dalla voce eh Ho una paura incredibile E ci sono ancora quei cavolo di cosi che danno scurità Oh mio dio Oh mio dio No 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 Oh Piano Scompa Non vedo più niente Non vedo nulla Totem Quanto dura? Cinque secondi? Ha lagato Ha lagato Avete visto che ha lagato? Magari ha generato dei mostri Toglietevi Toglietevi dalle scatole Non è che ce l'ho dietro Non fatemi Guardate come lagga Sento dei versi Sentite Oltre il muro Ho poche torce Non lo so ragazzi Forse Che cavolo è stato? Forse conviene tornare a casa? Non lo so conviene tornare a casa Guardate Non so perché i mostri sono attratti Sono attratti da me adesso Io vorrei solo prendere i blocchi nuovi Posso? Posso prendere i blocchi nuovi? Che è lì? Che si è illuminato? Vorrei prendere solo No 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 Che? Che cavolo è stato? Che cavolo è? Che cavolo è stato? Che cavolo è? Oh mio dio No 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 C'è il suor Che cavolo è? Che cavolo è? Lo sentite? Mio dio sto morendo di paura Che cavolo è? Che cavolo è? Lo sentite? Che cavolo Che cavolo è sto rumore? È lì Ragazzi è lì lo vedete? Mio dio Lo vedete? È lì? Lo vedete? L'ho evocato Ragazzi è evocato il warden Oh mio dio fa paurissima Che? Ma mi sente? Sta odorando il mio odore Che piano? Ma che cavolo sta facendo? No io Io non penso di essere ancora approvato per tutto questo Io non sono approvato per questo Proviamo a prenderlo Mi sta odorando Mi sta cercando Beccati questo L'ho preso No 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 E adesso? Mi ha visto No 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 Oh mio Dio, sta arrivando No, io me ne vado È dietro di me È dietro di me È tutto buio Oh mio Dio, ragazzi Ragazzi No, no No, via, via Oh mio Dio Oh mio Dio, ragazzi Mela Mamma mia, mamma mia Mi ha cavato questi tutti i cuori Dov'è? È lì, mi sta odorando No, no Sono messo male Se questo mi ammazza Mio Dio, ma questo è fortissimo No, ma perché sono venuto qua? M'ha visto? Oh mio Dio Di nuovo scurità, no Che? Ha compiuto il progresso furtività 100 È qua sotto, ragazzi Mi sta cercando Ti prego, voglio andare via È qui No No, no, no Mi sta sentendo Mi sta adorando Devo andare via No Perché ho scavato? No No, 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 no Guardino Guardino bello No, è qui Mi sente Mamma mia È un film horror questo Fatemi andare via Se vedete le vibrazioni del terreno Se vedete le vibrazioni del terreno Le sente tutte Le sente tutte arrabbiatissimo Voglio andare via Ti prego Mamma mia Voglio andare Oh No, 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 no No, 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 no Non muoio Io qui si muoio Io qui si muoio Io qui si muoio Fermi dare via Fermi dare via No Oh Mio dio Via 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 Mi sta sentendo Mi sta sentendo Via Via Me ne devo andare via Ragazzi Se questo mi ammazza Se questo è fortissimo Mi sta odorando Sta sentendo I miei pazzi Me ne devo andare Oh mio dio Oh mio dio Ragazzi Oh mio dio Ho rischiato la vita Ho visto il world E ne ho rischiato la vita Ragazzi Mi devo riprendere Mamma mia Scrivetemi come fare Che io posso Come faccio a sconfiggere Una cosa del genere Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Dabe la faccia è tutto E ci vediamo presto Appena mi riprendo Ciao Ciao Ciao